però una cosa allo zige bisogna andarci non per ascoltare le canzoni ma per spargere quello di cui siamo quello per cui siamo stati fatti per dare no allo zige bisogna andarci non per la musica ma per l'amore e adesso a tutta questa gente chiederemo perché noi questi due ragazzi che vanno in giro a spargere amore meritano di andare gratis allo zige allora la missione è questa abbiamo un biglietto per il terzo anello ma avrete una foto di noi nel prato testimonianza terzo anello guarda se non in tribuna ad un uovo vede come vedete avevamo un biglietto per il terzo anello adesso siamo al primo è già un paio non sa come mai se siamo riusciti ad andare al primo anello con un biglietto del terzo anello perché dal primo non possiamo andare perché non possiamo andare allo zige con un biglietto del rolling store e siamo degli attimi reparti ce l'ha da dire perché questi due ragazzi questi qua sono i più in regola sono i più in regola ragazzo buono perché questi ragazzi dovrebbero andare allo zige devono andare per forza perché sono i numeri uovi lo dico io cosa perché dobbiamo vincere due biglietti per lo zige festival noi due perché siete di figli dovete andare a voi tu mi ricordi Michael Hachens ok sai non chi era Michael Hachens wow il leader dell'inex s lì solo per questo motivo dovresti vincere perché perché dovremmo vincere perché 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 siamo i più fichi perché volete passare di qua volete passare per quello che era il fichi no dovete urlarlo dai perché questi ragazzi dovrebbero andare allo zige perché sono i più fichi forse perché è sicuro lo faccio è sicuro non è di più per me per me per me per me sono i più fichi per me 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 dal primo rosso al prato dal cerzo dal cerzo siamo meritevoli, siamo fichi ce lo dicono tutti lo dicono tutti che siamo fichi, è vero? le carca di Helm sono il gruppo migliore che proviene dalle valli bergamasche hanno già due biglietti ma ne hanno bisogno di altri anche dalle valli Calabria questi ragazzi meritano sono anni che fanno la gavetta nei locali peggiori della bassa bergamasca e quindi hanno bisogno di andare a Ludwig a sentire i prodigi e noi votiamo di Helm la città di Helm la città di Helm La storia è in l'air, glass divides us, empty bottles, mark the steady sweep of days. Tomorrow I will walk the streets and steal myself for the familiar, your eyes will not settle, a hunger, you'd be happier in your grave. When we meet, share stories, you stretch me, I see a semicircle of teeth. The dark systems, I smoke cigarettes, the dark systems, I smoke cigarettes. For me, I'm your sorrow, coming in your dreams.